E ci sono dei campionati per questa disciplina? Sì, appunto, come diceva prima Mauro, questa carabina viene utilizzata nel Field Target, che è una disciplina di tiro all'aria aperta, nata in Inghilterra, sta avendo molto successo anche negli Stati Uniti e di recente è stata introdotta anche in Italia. Il tiratore, seguendo un percorso di caccia, spara ad alcune sagome in metallo, poste a distanze differenti in base alla difficoltà e con una potenza limitata, perché queste carabine inglesi, ci tengo a sottolineare, sono le prime, oltre che in tecnologia, anche in termini di potenza. Infatti per le versioni meccaniche possiamo raggiungere potenze superiori ai 100 J, mentre per le versioni elettroniche le potenze possono arrivare a 60 J. E in Italia come siamo messi per il Field Target? In Italia è nata un'associazione che fa parte della FITAF, costituita dai primi appassionati, che oggi, in circa 5 campi distribuito in tutto il territorio, organizza gare e coinvolge mese dopo mese sempre più appassionati e giovani. E chi volesse provare questa disciplina cosa deve fare? Contattare la Marocchi. Allora, Mauro? Ma io direi che chi vuole provare questa disciplina può andare nel sito della federazione di Field Target, dove può leggersi le istruzioni, può già vedere quali sono i campi di tiro operativi. Devo dire che è una cosa molto interessante perché in Geni Inghilterra ci sono migliaia di appassionati dove intere famiglie si passano magari il sabato pomeriggio o la domenica camminando in un bosco dove sono stati fatti dei percorsi e fanno delle piccole competizioni. La cosa interessante di queste armi è proprio nella tecnologia, è il fatto che possono essere caricate con la stessa aria che viene utilizzata dai subacquei, quindi hanno la possibilità di essere ricaricate una semplice bombola e hanno una grossissima autonomia, di conseguenza un costo anche di gestione molto molto basso. Basti pensare che con 4-5 euro si possono fare 4-500 colpi. Quindi è uno sport divertente, economico, che si pratica all'aria aperta. Esatto, economico, che si pratica all'aria aperta. Noi abbiamo un po' collegato al tiro a volo. Perché al tiro a volo? Nel tiro a volo il divertimento consiste nel non stare chiusi in un locale, ma andare a contatto all'aria aperta, sparare su dei campi di tiro. Quando il percorso di caccia, fare un percorso itinerante dove si simulano le azioni di caccia con dei piattelli, col field target si fa la stessa cosa. Anziché essere bersagli in movimento, sono dei bersagli fissi. Come diceva prima mio figlio, a distanza differenziata, questa distanza proprio serve a creare diverse difficoltà. Quindi un bersaglio più piccolo, posto a 150 metri, sarà sempre più difficile che un bersaglio posto a 50 metri. Questa è un po' la filosofia del field target, far divertire tutti. Parleremo certamente in futuro ancora del field target. Adesso vorrei ringraziare gli sponsor di Pianeta Tiro, ringrazio la ditta Fiocchi, la ditta Marocchi, Mauro Marocchi qua presente, Castellani, Renato Gamba, Zoli, ringrazio Aspertiro, Euro Target, Associazione Trap con Caverde, Tiro a Volo Cieli Aperti, ringrazio la Federazione Italiana Tiro a Volo, Army Magazine, Work on Web e il sito internet iltiro.com. Vorrei dare un consiglio agli amici tiratori e cacciatori per i loro strozzatori, ricordo Aspertiro, Aspertiro è una ditta bresciana, importatrice degli strozzatori Braille, per ogni informazione www.aspertiro.it. Un altro suggerimento amici tiratori è come rompere un piattello in più, una serie di due DVD realizzati in collaborazione con due grandi campioni, Rodolfo Viganò e Marco Venturini. I DVD sono disponibili sul sito internet iltiro.com. Mauro, noi abbiamo un amico in comune, l'abbiamo già detto altre volte, è un cacciatore, è un tiratore, è uno scrittore. Non possiamo dire il suo vero nome perché non vuole, possiamo solo chiamarlo col suo pseudonimo. Sto parlando di Grillo Saggio. Stasera Grillo Saggio ci presenta un brano dedicato alla caccia e lo ascoltiamo insieme. Una notte sullo stretto, le brezze d'autunno. Stavo per prendere sonno all'alba di una lunga notte autunnale quando avvertii come un rumore di folle sul mare dello stretto che si poteva vedere dalla mia finestra. Un panico tra le foglie degli alberi sottostanti mi svegliò completamente. Mi alzai e aprì la finestra. Erano le brezze autunnali, quelle che tanto giovano alle migrazioni degli uccelli. Era l'autunno che tornava puntuale con i suoi cieli di afani, le tormente di sabbia, i mulinelli di foglie morte per le strade, il vento che scoperchiava le cabine sulla spiaggia e alzava le gonne alle poche donne che ancora le portavano. Allora la città in attesa del ponte acquistava una risonanza spettrale. Nelle notti di brezza era possibile sentire le mille voci del porto e del popolo dei traghetti anche nei quartieri alti, come se fossero all'angolo della strada. A quell'epoca, mentre ci trovavamo appostati col fucile tra le mani in attesa dell'alba, non era raro che le raffiche autunnali ci permettessero di rintracciare attraverso le loro voci gli amici disseminati in capanni remoti sulla collina. Eravamo tutti in attesa del sole che sarebbe sorto ancora e con esso finalmente la luce. Ciò che desideravamo sarebbe dunque stato lì, a portata di mano. In questo e nella salute dei vent'anni risiedeva allora l'intero capitale delle nostre certezze. Un brano pieno di malinconia dedicato alla caccia. Mauro. Ma il Grillo ha colto come sempre il vero spirito sportivo della caccia. Quindi salutiamo Grillo Saggio, ricordiamo agli spettatori che tutti gli iscritti di Grillo Saggio sono disponibili sul sito iltiro.com. Mauro, il nostro tempo è finito. Ti ringrazio per essere venuto. Grazie Michele. Grazie a voi. Amici, vi ricordo che noi andremo in onda sempre il venerdì, fino alla fine di febbraio, sempre alle 23.30. Le repliche delle puntate di Pianeta Tiro sono disponibili sul sito iltiro.com. Arrivederci alla prossima puntata. Buonanotte. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.